Eman! Ti invito qui sul palco! Complimento Eman! La muri e assenza! Eccolo qui! Fatelo un forte applauso pubblico! Viva gli artisti siciliani! Possiamo consegnarlo Salvo? Perché attenzione, attenzione, attenzione! Non lo abbiamo detto perché voleva essere anche la conclusione del nostro evento. Abbiamo un premio della critica e Salvo sa benissimo a chi tra poco lo consegniamo perché è stato scelto ancora prima dell'esibizione perché abbiamo studiato per bene la sua canzone. Ci è piaciuta, la riteniamo assolutamente una canzone, poi tra l'altro questa sera l'ha cantata in maniera meravigliosa. Pertanto abbiamo deciso di assegnare il premio della critica, anche noi siamo un festival importante. Ma è una lui, una lei o un gruppo? È un lui! È un lui! Allora, adesso Salvo ci raggiunge qui perché abbiamo già pronta la targa. Antonello Mallaci! Premio della critica! Ti invito qui sul palco, Antonello! Non te l'aspettavi, avevi già tolto tutto, giacca! Si ha tolto la giacca, le scarpe, invece il pigiama! No, invece no! Vieni sul palco a godere di questo momento! Antonello Mallaci, premio della critica! Complimenti Antonello, la tua di nuovo, ci è piaciuta nel testo, lo abbiamo sottolineato con questo premio della critica, meritatissimo, così come è meritatissimo anche il premio del Summer Song 20 e 24 di Eman. Grazie! Grazie!